In vista della fine della legislatura regionale, il 2025 è più vicino di quello che si possa immaginare. Il presidente eletto dai pugliesi, Michele Emiliano, sta facendo i conti con una crisi inaspettata nonostante l'enorme consenso ricevuto. Ci sono situazioni aperte che stanno infatti minando la credibilità del centro-sinistra. Prima fra tutte la delicata questione azione di Carlo Calenda, poi quella di Italia Viva di Matteo Renzi ed ora anche l'indipendente ex 5 Stelle La Ricchia che firma con i rappresentanti dei primi due partiti ormai uniti sotto un'unica bandiera all'opposizione conclamata. Regge solo l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, voluta, sorretta personalmente da Emiliano con Conte, ma che sta attraversando un deserto, visto che a Taranto Milucci, il primo cittadino, ha estromesso dalla Giunta proprio un uomo dei 5 Stelle. Fortuna vuole che non sia notizia del centro-destra, forza di governo a Roma, che stenta però a riorganizzarsi in Puglia dopo l'ultima batosta elettolare regionale, anche se poi alle politiche la situazione si è quasi ribaltata. I pugliesi attendono purtroppo in silenzio. Non basta per essere felici, sapere che dalla prossima volta le casse regionali risparmiranno tanti bei euro, visto che, essendo venuto meno il numero di abitanti necessario, i prossimi consiglieri scenderanno da 50 a 40. Ma le liste di attesa aumentano. Le risposte della sanità pubblica sono troppo lente, con esiti rispetto a delicati esami effettuati, che arrivano anche dopo 14 mesi. E a nulla servono le richieste della Puglia alla Conferenza Stato-Regioni proprio in materia sanitaria per sanare tutte queste falle, visto che nel frattempo si è aperto un nuovo contenzioso con gli ospedali religiosi, che hanno sostenuto, ultimamente, che in mancanza di ulteriori sovvenzionamenti avrebbero portato i libri in tribunale. La maggioranza in regione viaggia a fari spenti, e spesso ognuno per proprio conto. Ed è per questo che negli ultimi anni Emiliano ha pensato bene di chiedere la collaborazione dei forzisti Mauro Di Noia, Cassano, Stea e ultimamente anche di la catena primo degli eletti in Forza Italia. Ma non basta. Il PD è troppo preso con i dati congressuali e risponde assente. Ed allora tutti attorno ad un tavolo per un cronoprogramma finale. Il 2025 è più vicino di quello che si possa immaginare e i Pugliesi sono stanchi di attendere risposte, soprattutto quando si parla di salute.